Salve a tutti ragazzi oggi faremo il pronostico della partita di Napoli-Udinese il Napoli giocherà domani alle 15 e questa non sarà una partita molto facile per il Napoli però io credo che il Napoli ho buone speranze che lui vincerà e in questo risultato io credo che il Napoli vincerà per ben 3 a 0 e saranno gli autori dei gol saranno Osimeno, Lozano e Zerischi questi per me segneranno ok aspettiamo domani questa bellissima partita che gioca alle 15 e speriamo in bene adesso vi saluto forza Napoli e forza a tutti i tifosi napoletani mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale ciao a tutti